Grazie a tutti per questo nuovo video In questo video vi dico come sta andando la mia scuola Allora, la mia scuola sta andando bene Cioè bene, bene Bene, bene E... Sta andando bene, il compagno è tutto a posto E se vi state chiedendo come... Che istituto sto facendo, che indirizzo sto facendo Sto facendo un IFP turistico E niente, tutto bene Mi sono fatto già amicizia così E... E niente E niente A parte in questo periodo che i miei compagni stanno facendo un po' Un po' casino Perché abbiamo preso tante note di classe Tante note A tre dovremmo essere sospese Ne abbiamo presi cinque Cin... Cinque E tre dovremmo essere sospese Così sto andando bene, mi trovo bene Tutto già amicizia E niente E niente Spero che questo video vi sia piaciuto Se non siete iscritti iscrivetevi Commentate Ciao alla prossima Si va a spegnere Cura regge Cura regge Cura regge Cura regge Cura regge